Siamo qui con i due consiglieri di opposizione del Comune di Rivarolo Canavese, del gruppo Riparolium, il consigliere Fabrizio Bertot e il consigliere Aldo Raimondo, che ci hanno chiamato questa mattina qua in Frazione Pasquaro per commentare un nuovo progetto dell'amministrazione comunale del gruppo di maggioranza. Siamo qui ospiti al condo, gentilmente, visto che piove. Allora, di cosa si tratta? Si tratta di? Si tratta di qualcosa di più, di un progetto, nel senso che parliamo di un progetto nella sua fase di esecutività, dal momento che l'aggiunta a Rostagno ha già deliberato addirittura l'avviamento del primo lotto e si tratta della realizzazione di un'area attrezzata per roulotte nella Frazione Pasquaro. Ora, dal momento che si tratta di un intervento importante dal punto di vista della superficie, riteniamo che circa 1200 metri quadri da destinare al ricovero di roulotte, con tanto di allacciamenti per lo scarico fognario, per l'allacciamento idrico, per la corrente elettrica, significa di fatto costituire un punto di attrazione per le popolazioni nomadi che avranno la possibilità in quest'area di stanziare almeno, a stima, da 20 ai 40 mezzi, vuol dire 20-40 famiglie che potrebbero stanziarsi in quel di Pasquaro, dove obiettivamente sarebbe poco credibile che invece l'area possa essere utilizzata magari da un villeggiante, da un turista. Questa è la dimensione totale dell'area, ai 1200 metri quadri? No, non so, 1200 da destinare al campo nomadi, se mi permettete di utilizzarlo così, in questo termine. E altri 450-500 metri dovrebbero essere dati ad un'associazione, e dai rumors che ci arrivano, ma abbastanza confermati, dovrebbe ospitare il cosiddetto gattile, c'è quel ricovero per Felini che al momento è provvisoriamente ospite presso il parco di Villa Vallero. Area nomadi, in realtà nella delibera è segnalata come area di sosta e parcheggio? Area di sosta e di parcheggio per camper e roulotte, quindi un'area di fatto attrezzata per ospitare in maniera stabile. Peraltro, la stessa delibera lo dice, perché leggendo la relazione e quant'altro, cito testualmente il testo della delibera, si parla che l'area è fruibile al pubblico in modo continuativo e funzionale, consentendo di viverla con maggiore partecipazione. Ora, ripeto, parliamo di un'area di quasi 1200 metri quadri in frazione Pasquaro. Penso che Pasquaro abbia bisogno di tante cose, come anche Rivarolo, ma sicuramente non certo di un'area per ospitare popolazioni o residenti in roulotte. E adesso è stata comunque emessa una delibera di giunta? È stata già approvata una delibera di giunta, quindi addirittura il costo dell'intervento è di 250 mila euro. E addirittura questa giunta ha così fretta di fare questo intervento che i primi 90 mila per il primo strancio sono già disponibili nel 2022. Quindi, considerando che siamo a fine novembre, vuol dire dicembre. Questo significa che la volontà politica di realizzare quest'opera è forte, perché se no, voglio dire, io scrivo un'opera e poi provvederò al finanziamento negli anni successivi. Invece c'è la volontà di realizzare già da subito il primo strancio e, ripeto, questo significa necessariamente poi portarlo a complimento nell'anno successivo. Quindi siamo già in una fase esecutiva, salvo qualche passaggio, sul quale per fortuna si è avventato il consigliere Raimondo, che penso ci possa spiegare meglio. Quale passaggio, presumo, la destinazione d'uso? Sì, praticamente abbiamo scoperto il tutto nell'ultima commissione, quindi l'altra settimana, dove non essendo nell'ordine del giorno, quindi ci sembra anche strano che questa cosa veniva messa senza ordine del giorno, quindi all'insaputa dei consiglieri, anche di maggioranza, perché comunque faccio notare che in commissione eravamo in quattro, due di minoranza e due di maggioranza, quindi anche quelli in maggioranza non c'erano, all'insaputa ci voleva parlare di questa aria, siamo caduti dal pero, io della minoranza, praticamente d'aria verde ad aria complementare, cioè significa che adesso abbiamo un'aria verde, un'aria verde più o meno perché dalle immagini diciamo che andrebbe un attimo rivisitata, questi terreni sono già del comune, quindi non hanno bisogno di acquisto esproprio, sono già del comune e alla domanda perché fate un'area camper, che tutti questi turisti non li vediamo, e comunque Rivarola ha già un'area camper sul fondo del mulinetto, e quantomeno vai a ampliare quella, alla domanda non mi si è data risposta, se non che dobbiamo risolvere il problema delle roulotte e dei nomadi, quindi facendo uno più uno mi è balzato il dubbio, e il dubbio mi sa che è reale, anche perché adesso che ci sono stati sul posto, è vicino a un'area industriale con delle fabbriche giustamente che stampano, quindi mettersi un turista che arriva e si sente stampare, lo stampaggio a caldo, insomma non è il massimo del turismo che si può ottenere. Certo, perché al momento ci sono già comunque delle zone in cui sostano le roulotte e dei giustrai? Sì, al momento penso che i giustrai sono messi in delle piazze, cioè non è regolamentato, le piazze penso che uno dovrebbe stare a massimo di 48 ore, però se il comune non interviene o quantomeno gli può andare bene la zona, va bene, quindi insomma non è il massimo. Comunque il problema dei rivalolesi non è tanto dove mettere le roulotte, ma secondo me abbiamo problemi più importanti dagli asfalti a tutto quanto, cioè non ci sarebbe un elenco che siamo qua una giornata a descriverlo. Come gruppo di posizione cosa farete adesso? Allora, visto che ci sarà un consiglio comunale a breve, abbiamo già presentato un argumento che peraltro va anche incontro alle esigenze dell'amministrazione, perché ripeto siamo un'opposizione, ma di fatto siamo quelli che abbiamo amministrato prima e che magari domani potrebbero anche tornare a amministrare, quindi il confronto in questo momento è assolutamente costruttivo e quello di suggerire all'amministrazione e gliel'abbiamo messo giù in un documento che basta, cioè con una semplice votazione in consiglio, innanzitutto si evitano di modificare l'area di gestazione d'uso, dopodiché abbiamo detto ci sono 250 mila euro da investire, perfetto, investiamoli tutti in asfalto. Quindi rendendo già immediatamente disponibili i primi 90 mila, io penso che sia anche un'operazione che da un punto di vista del consenso sia anche più facile, più accattivante per quanto riguarda l'amministrazione, quindi asfaltate, fate le cose semplici, asfaltate le strade, disegnate le strisce, mettete in ordine la città, queste sono le operazioni che un cittadino si aspetta da un'amministrazione che ormai è alle battute finali, perché voglio dire, parliamo di solo più un bilancio da votare, poi finisce il mandato amministrativo. Quindi io ripeto, il suggerimento che gli daremo sarà quello, asfaltate le state rinunciate a questi esperimenti che poi creano delle difficoltà anche amministrative, perché vedete, se un nomade arriva e si colloca in un'area che è impropria, ci sono gli strumenti amministrativi per mandarlo via. Io ne ho utilizzati tantissimi, quando ero sindaco addirittura gli portavo lì le ruspe, facevo credere che il giorno dopo lì doveva partire un cantiere e dicendogli no, potete stare qui questa notte, non c'è problema, però domani mattina qui sono previste dei lavori e quant'altro, quindi chiedevo a qualche amico impresario di portarmi lì in una ruspa, una cosa e l'altra. Questi più delle volte alla notte pigliavano, se ne andavano, e chiaramente spostavo il problema da un'altra parte, questo me ne rendo conto, perché il compito di un sindaco al fine risolve il problema della propria città, problemi nazionali, ci deve pensare qualcun altro. Mentre invece si va a realizzare un'area che specificatamente viene indicata come area sosta, peraltro carattere permanente, significa di fatto non avere meno lo strumento amministrativo, cioè manca un'ordinanza del sindaco sarebbe impugnabile al TAR, premesso che quando arrivano 20-40 famiglie non le mandi via, manco col battaglione, altro che con la nostra polizia municipale, quindi anche l'ordinanza varrebbe poco, ma soprattutto non ci sarebbe nemmeno supporto amministrativo per chi giustifichi questo atto. Quindi si rischia veramente di mettere nei guai la prossima amministrazione che rischia di trovarsi con le cose già fatte. Quindi ci permettiamo semplicemente di, e gli abbiamo già preparato il testo del documento, dal momento che nella frazione Pasquaro non c'è questa grande richiesta di soste per villeggianti e camperisti alla giornata, anche perché non necessiterebbe nemmeno Rivarolo, a questo punto investite quei soldi nelle manutenzioni delle strade e dimenticatevi questa cosa al netto, chiaramente di trovare magari una soluzione migliore per il gattile, che può sempre essere una cosa utile, ma non c'entra con il ricovero dei mezzi dei nomadi sul nostro territorio. Vedremo se sarà, se la mozione verrà accolta e vedremo anche se riusciremo a sapere qualcosa di più dalla maggioranza sull'intenzione di realizzare quest'area. Ok, grazie mille, grazie. Grazie.